ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare di groxy che mi ha mandato questa bellissima piastra praticamente è un ferro a ricce capelli automatico quindi la particolarità appunto che va a farvi il riccio comunque anche il mosso in maniera comunque automatica voi non dovete fare niente perché praticamente si va a mettere all'interno una ciocca di capelli spessa con un centimetro e qui praticamente abbiamo il verso che va verso sinistra e r sta per right quindi destra e qui c'è anche la temperatura e quindi automaticamente alla ciocca di capelli girerà attorno a questo tubo e quindi poi uscirà fuori il famoso riccio è davvero bellissima perché adesso comunque vi farò vedere pure come si usa qui c'è anche il libretto delle istruzioni ma comunque non serve perché semplicissimo si riscalda in 40 secondi e ringrazio ancora l'azienda groxy perché comunque ragazze potete trovare questa fantastica piastra direttamente su amazon ad un prezzo comunque irrisorio quindi ringrazio ancora l'azienda groxy per questa fantastica piastra e poi vi farò vedere appunto come poterla usare in funzione la piastra provi e adesso la andremo a provare allora vi faccio vedere innanzitutto accendiamo la piastra qui con questo bottone già sentiamo un beep possiamo scegliere innanzitutto la temperatura dipende appunto dal mosso che si vuole ottenere quindi lo mettiamo c'è il 200 vanno bene anche per il mio tipo di capello possiamo vedere qua sta lampeggiando quindi si sta riscaldando la piastra quindi appena non lampeggerà più vuol dire che sarà pronta ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.